Lei di Cologno torna a far parlare di sé per uno scatto postato sui social.Oggi pomeriggio alle 14 Barbara Durso tornerà in diretta su Canale 5 con un nuova puntata di Domenica Live Lei di Cologno, però nelle ultime ore è finita al centro delle polemiche per una nuova foto che ha postato sui social Barbara Durso fa la pipì insieme a Ipo.Come tutti ben sanno Barbara Durso oltre ad essere un'ottima conduttrice è una a cui piace molto postare foto e video sui social E a proposito di Instagram, alcune ore fa l'artista napoletana ha spiazzato tutti i suoi followers con uno scatto abbastanza particolare I protagonisti dell'immagine sono Lei di Cologno, e i componenti di una della BAD più importante d'Italia, ovvero Ipo.O Ma per quale motivo le polemiche? La donna e gli altri quattro uomini sono girati di spalle intenti a fare la pipì di fronte ad un muro Ovviamente è tutta una scena, e la foto risale più di trent'anni fa. Accanto all'immagine, Carmelita ha scritto questa di Dascalia Vi stavate chiedendo dove fosse finito il quinto di Esispo o? Beh, io ho un'idea ce l'avrei Barbara Durso torna con Domenica Live.Come annunciato nel paragrafo precedente, Barbara Durso oggi tornerà con un nuovo appuntamento Di Domenica Live Anche questa settimana Lei di Cologno si scontrerà contro Domenica Indy Maravenier Ver discorso a pomeriggio 5 la conduttrice partenopea ha rivelato che nel contenitore domenicale tornerà a Loredana Lecciso Ovviamente nel suo salotto ci saranno altri ospiti . . . Io . . .